Ciao ragazzi, allora finalmente ci siamo, stiamo di nuovo partendo con i miei due compagni di viaggio, uno antico compagno di viaggio Daniele, poi abbiamo una nuova leva, Christian, che speriamo di portarlo a casa tutto indietro. Allora andiamo sulle montagne dell'Atlas dove troveremo tutti i cani dei berberi, perché ho organizzato tutto Daniele e io sono quasi un semi ospite. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere i cani da pastore dell'Atlas, i cani dei berberi, cercheremo di vedere gli slughi, gli obrieri utilizzati per la caccia e conosceremo la cultura locale. Stamattina, erano le sette e mezzo, ho chiamato Daniele, lui era già pronto, era già vestito, ho detto, ma farà freddo? Stiamo a du mila metri, come quando siamo andati sull'Immaraia. Comunque lui era già pronto a partire, talmente entusiasto, sette e mezzo già vestito e partiamo alle cinque. Bene ragazzi, vi terremo aggiornati di tutti i nostri itinerari e per adesso volevamo solo dirvelo, seguiteci, storie, video, un po' di tutto. Ok? Ciao ragazzi e a presto. Grazie.